Hola Alvaro! Bene, e tu? Bene, grazie. Molto contento di stare qui a Roma e di tenere la premiere internazionale del mio film e di che finalmente la gente lo può vedere, no? The Propaganda Game. Alla fine, secondo te, c'è un paese che manipola l'informazione più della Corea del Nord? Tutti manipulano, tutti. Tutti la informazione e tu lo sai perché tutti i medios di comunicazione lo facendo di alguna manera, no? La questione è, Corea del Nord lo fa, lo fa propaganda, abiertamente, claramente. Todo il paese è propaganda. Dessere che arrivi, tutto il tempo ti stanno dicendo i messaggi che devi fare, lo che devi pensare, come te levantas, a che ora, a dove lavoras, a dove vives... La questione è, la manipulazione che noi viviamo è una manipulazione più complicata perché non siamo conscienti di che siamo siamo manipulati. La informazione che viene di Corea del Nord sempre è strana, sempre è rara, sempre ha una seconda intenzione, no? E credo che Corea del Nord representa un caso, molto pratico, ma questo ci passa nel dia a dia a tutti, no? La manipulazione della informazione è tremenda. E credo che, se potresti conseguire una cosa con la film è che la gente pensi prima di accettare una opinione. ma la gente, ora, non genera le loro opinioni, ma che le accettano di altri, senza pensare molto. E è molto peligroso. Qual è stato il momento più pericoloso o un momento, se c'è stato difficile, perché hai aspettato tanto per avere i permessi per andare lì, no? Quindi... Il stress allì era elevato perché mi dicono che se faccia qualcosa fuori della norma mi quitaria tutto il materiale. Quindi, chiaro, tutto il tempo vuoi trovare l'equilibrio tra push, 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 però senza break the rule, no? Perché, se perdono tutto, perdono tutto. E credo che il momento più difficile fu un momento che fui a la Embajada Alemane, che è la rappresentativa dell'Europa in Corea. Per loro è stata una cosa quasi come una tradizione. E mi mettono dentro di una caja fuerti, dentro della Embajada, in una caja fuerti gigante, cerraron e mi dicono, stai in l'unico sito in tutto Corea dove non ti stanno ascoltando. Oh mio mio! Si, molto bene. E questo fu fantastico. Certo, i coreani, come deixaron di ascoltare, se posero molto nerviosi. Allora, in Bocalupo, buona fortuna, per Propaganda Game. Voi fare un saluto a Fan Week. Un saluto molto forte a tutti i telespectatori di Fan Week. Alvaro Longoria, Propaganda Game. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un placer. Ciao. 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 Ciao.